Allora, Mister Fontemaggi, arriva la sconfitta in campionato, però c'è un piccolo sorriso sul volto. Qualche cosa non ha funzionato, almeno nella seconda parte della gara, perché nel primo tempo abbiamo visto un Anzionavigno completamente diverso rispetto all'anno scorso. Sicuramente abbiamo cambiato più di qualcosina quest'anno. Abbiamo un apporto tecnico di grande livello, rappresentato da Alberto De Angelis, che è il mio allenatore, e mi sta dando una grande mano con queste ragazze per farle crescere, per farle amare questo sport. Per quanto riguarda la partita di stasera, purtroppo, come dice il mio mister, questo sport è spietato, per cui nonostante siamo stati perfetti per 50 minuti, tre disattenzioni, tre gol, abbiamo perso la partita. Però non sono assolutamente insoddisfatto, perché diciamo che questa sera siamo stati veramente penalizzati da tre episodi. Andiamo un po' nel dettaglio. Allora, primo tempo si è cercato molto la profondità, quello che l'anno scorso spesso, mister, si chiedeva dalla panchina, si è cercato molto la profondità, soprattutto nelle zone esterne, sui corridoi esterni. Forse è mancato un po' il fraseggio nella parte centrale. Sì, sicuramente abbiamo sbagliato qualche pallone di troppo, sono stati, ripeto, hanno avuto tre rimpalli al limite dell'aria fortunatissimi. Il portiere loro ha fatto due parate strepitose a tu per tu, già avevo risultato il gol io, quindi per quanto riguarda il discorso del fraseggio sicuramente c'è da lavorare, campo nuovo, struttura nuova. Ecco, il campo forse è stato un po' penalizzante, forse le dimensioni diverse rispetto a quello dello scorso anno? Il campo penso che sia uguale per tutte e due le squadre, quindi sicuramente come magari eravamo in difficoltà noi, potevano essere in difficoltà pure loro, per cui il campo poco conta. Diciamo che io questa sera credo che solo e esclusivamente tanta tanta sfortuna, tanta tanta sfortuna. Diciamo che ci siamo, spero che ci siamo giocati tutta la Iella alla prima partita, perché comunque non abbiamo un campionato che non è poi corto, anzi quest'anno forse è qualcosa in più. Quest'anno ci hanno allungato anche di più il girone, ci hanno anticipato, quindi noi ci è arrivata la comunicazione che si giocava questo venerdì, che eravamo ancora in piena preparazione perché dovevamo iniziare a fine ottobre, prima settimana di novembre, ce l'hanno messo a prima settimana di novembre, quindi ci hanno fatto saltare un mese di preparazione, i ragazzi comunque sono ancora molto pesanti e comunque hanno fatto una partita di livello contro una squadra che comunque sono tanti anni che gioca insieme, viene dalla C, è una squadra, buona squadra. Io sono contento delle ragazze perché sono sicuro che quest'anno ci divertiamo. Di più. Ci divertiamo sicuramente di più.